Nadia Matteo dovrà venire dai no ecco avete qualche dichiarazione da fare niente hai sistemato il computer Flavio funziona internet problemi risolvibili cioè le parti tecniche non le so ma quelle comuni che ho provato l'altra sera senza risultati inoltre non so Simona io dalla mia pennetta ho scaricato immagini dei miei quadri che Flavio ti potrà far vedere ma gliel'ho detto io a Flavio guarda che questo si deve accendere ci viene una lucetta rossa bisogna configurare allora aspetta io devo dire una cosa Simona tu sai che Krishna viene valutato come infinitamente affascinante il dio Krishna se leggi lo Simona il Bhagavata è infinitamente affascinante cioè chiunque lo guarda uomo o donna o animale si innamora di lui posso dirti tu sei affascinante oggi grazie disappearance speriamo iscritto grazie non pensavo che mi passi un complimento ahahahahah grazie Gino sono statistici sentite una mazzata bello 1200 ecco questi sono i quadri di Leopoldo Geri Pierluigi Geri l'ho sentito nominare Amico di Tina, amico mio, di un gadà. No, è morto a gennaio scuro. C'è, certo, non si ho capito. Leopoldo è morto due anni fa, invece. Tutti defunti? No, tutti no. Questo no, questo no. Io volevo rendere omaggio a questi due amici scomparsi recentemente. Ma scusami, sono tutte qui le opere? Perché l'altro anno c'era anche dall'altra parte. Quest'anno ci hanno detto, no, guardate, lì c'è l'aperitivo, quindi non dovete mettervi di là. Ok, sicuramente. Beh, chiudo, eh.